Buongiorno, in questa seconda puntata di Al di là del meteo siamo stati invitati nei locali di MC, bar, pasticceria, gelateria e panetteria, in via Sestri di fronte all'OVS per capirci. E voglio ringraziare tutti, gestore e dipendenti, che ci hanno accolto veramente con molta simpatia. Prima di dare la linea a Sergio e a Chiara, vi voglio ricordare una appuntamento da non perdere. Domenica 6 ottobre alle ore 15 e 30 vi invito ad andare al Carlo Felice a vedere uno spettacolo per famiglie organizzato dall'Associazione sulle ali della fantasia. È importante esserci perché ricavato andrà all'istituto Gaslini, ma per le prenotazioni guardate la locandina con il numero di telefono. E ora la sigla e poi a voi Sergio e Chiara. Al di là del meteo è presentato da Bruno Cherini, Sestri Ponente d'Intorni. Buongiorno e bentrovati amici del gruppo Sestri Ponente d'Intorni. Come vedete oggi siamo in una location molto particolare e come ha già detto Bruno, torniamo a ringraziare gli amici del MC Bar di Via Sestri. Bene, comunque Chiara sta arrivando ovviamente, non preoccupatevi sarà con noi fra poco. Nel frattempo però andiamo a scoprire quale sarà l'argomento della puntata di oggi. Ebbene, oggi parleremo della nostra mitica filarmonica sestrese. Chi non la conosce, chi non l'ha mai vista sfilare per le vie o addirittura suonare nei teatri. Ebbene, è una banda, una filarmonica con una storia molto interessante. E chi, meglio di Mario Carboni, potrebbe raccontarci la storia di questo gruppo musicale sestrese? Beh, quindi facciamo una cosa. Intanto che Chiara arriva io do la linea al nostro inviato speciale, ovviamente il nostro amico Mario Carboni. Nel frattempo quando torneremo in studio vediamo se Chiara sarà arrivata. Bene, quindi Mario sei pronto? A te la linea. Ciao Sergio, grazie per darmi l'opportunità di parlare della filarmonica sestrese, un'associazione musicale che pensa un po' che sta avviandosi verso i 180 anni. Infatti è stata fondata come scuola di musica il 27 maggio 1845. Dal comune di Sestri un gruppo di personaggi si sono dati da fare per creare una scuola di musica. Eravamo ancora sotto il regno di Sardegna e Sestri era comune autonomo. Il comune aveva deciso di aprire questa scuola, aveva chiamato un maestro importante a dirigerla che era il maestro Leonardo Corradi che era già maestro di musica a Imperia da qualche parte. È venuto qua a Sestri, ha messo su questa scuola e da una scuola ovviamente è nata una banda musicale che poi ha avuto un sacco di importanti avvenimenti. Pensa un po' che nel dicembre del 1847 e a Corsa o Regina a Genova dove veniva ricordato il centunesimo della cacciata del Balilla del 1747. Hanno fatto questa manifestazione 48.000 patrioti arrivati da tutta Italia per ricordare questo fatto perché era una rivolta anteostriaca e allora c'era già questo sentimento diciamo contro l'Austria che occupava mezza Italia e questa manifestazione è stata un po' steggiata dal regno di Sardegna ma è avvenuta ugualmente. Nella manifestazione c'era chi ha scritto la poesia che era Alfredo Mammeli e anche il musicista che aveva scritto la musica su questa poesia che era appunto Fratelli d'Italia, quella che adesso è l'inno nazionale. Allora invece era un inno sovversivo perché parlava Fratelli d'Italia e Italia sedesta quando qui era un regno a parte, l'Italia non se ne parlava ancora. Questo è un fatto storico e questo è stato uno dei primi avvenimenti perché poi la filarmonica di allora, la banda di allora si era data da fare per aiutare Garibaldi, per aiutare Mazzini, per aiutare insomma è una banda risorgimentale. Poi dopo con l'Italia e sedua anche una banda municipale, ha cominciato a partecipare a concorsi internazionali e qui a Sestri, tra l'altro musicalmente era molto interessante perché già in passato si parlano nelle cronache della fine del Settecento, c'erano dei gruppi di musicisti che facevano dei concertini, delle cose. Poi come hanno visto che è nata questa banda del comune, hanno pensato bene altri di organizzarsi. Siamo arrivati a un punto che a Sestri c'erano tre o quattro bande, delle quali poi per vicende diverse si sono poi sciolte e è rimasta solo quella che poi era la Ghio, in nome del primo maestro che appunto era secondo Ghio, il quale era un grande maestro che ha fatto dei grandi successi. E da lì, verso la fine dell'Ottocento, arrivare fino al 1945 a Sestri funzionavano due bande e scoppiavano anche delle grandi liti, dei contrasti perché per i servizi, per i funerali, per i matrimoni, mentre invece le cose civili, chiamiamo così, erano appannaggio della banda comunale che era appunto che poi dopo la morte del figlio del primo fondatore, cioè Casimiro Corradi, del quale abbiamo anche una strada a Sestri che lo ricorda, ebbene dopo la sua morte allora ha cambiato nome, invece di banda municipale è diventata Casimiro Corradi e con quel titolo, abbarcato tutto il Novecento, è arrivata fino appunto a fondersi nel 1945, a fondersi con l'avversaria, e da lì è nata la Filarmonica Sestresi. Filarmonica Sestresi che poi è diventata una grande banda, naturalmente ha continuato nella tradizione dei concerti, delle trasferte, dei concorsi, tra l'altro hanno un palmarès di premi che proprio dà invidia, ha una storia bellissima, poi avvenimenti anche storici, ha incontrato Giuseppe Verdi, ha incontrato Cilea, tutti i grandi musicisti dei quali eseguivano quei brani che erano operistici, che erano di moda allora. Siamo arrivati nel dopoguerra, stavo dicendo, qui a Sestresi per fortuna è ripreso tutta la vita e quindi in tutti i momenti entro in scena un po' io, allora sono nato nel 1939, nel 1942 ero già qui all'asilo, che era esattamente sopra la sede della banda, quindi tutte le volte che scendevo le scalette guardavo in quei vetri e vedevo quelle cose strane che poi erano i leggì di ferro, perché essendoci la guerra la banda non suonava, però non ha interrotto la sua attività perché c'è stato durante la guerra e durante anche i momenti peggiori della guerra, con l'oscuramento, con i difieti, i bombardamenti, la scuola non ha mai cessato. Naturalmente uno o due allievi alla volta, anche perché era vietato l'assemblamento. E poi nel 1945 è scoppiata finalmente la libertà e c'erano questi concerti, c'erano tutti i momenti in piazza Baracca dove c'era il podio che è del 1871, pensate un po', e infatti quando è morto Casimiro Corradi, davanti era stato messo questo busto, il ricordo del maestro. E qui a Sestri è diventata poi la filarmonica Sestresi e ha partecipato nuovamente a concorsi, ha fatto dei concerti molto importanti, ha incontrato nella sua storia due presidenti della Repubblica e due papi. Non solo, poi ha avuto questa opportunità di andare a fare una trasferta lunghissima, di 15 giorni negli Stati Uniti d'America nel 1992 per festeggiare il cinquantenario della scoperta dell'America. Era stata invitata dal Comitato per i festeggiamenti perché era la banda di Genova. E siccome Cristoforo Colombo è noto, è nata a Genova, hanno invitato questa, che era l'unica banda italiana presente insieme a tutte le altre. Una cosa bellissima, un grande merito. Poi trasferte in tutta Italia, in tutte le regioni, tutte le manifestazioni, ma questo è un po' il tipico delle bandi. L'unica cosa interessante è che dopo il 1980, da banda che suonava musiche sinfoniche, musicoperistiche, eccetera, pian pianino si è un po' più allargata, aprendo a quelle musiche che venivano dall'estero, soprattutto dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti d'America, che si chiamavano appunto musiche per orchestra di fiati e percussioni. E c'erano appunto dei grandi compositori che hanno scritto delle bellissime musiche che sono entrati nel repertorio. Come sono entrati nel repertorio? Musiche di colonne sonore, di film, eccetera. Infatti uno degli incontri più belli della Filarmone è stato quello con Ennio Morricone e anche con un altro grande compositore, amico tra l'altro di De Andrè, e soprattutto quello che ha scritto la colonna sonora per uno spettacolo teatrale nel 1992 alla Fiera del Mare, che era Ulisse e la balena bianca. Il compositore è Nicola Piovani, che io conosco personalmente, e mi fa piacere ricordarla adesso. E tutte queste vicende hanno portato poi all'idea di creare un festival genovese. Infatti il primo si chiamava Festival Città di Genova e venivano invitate tutte le bande della Liguria, a turno, venivano qua a Sestria sul podio della musica, oppure dentro dei teatri, facevamo questo festival. E con queste musiche, però queste adiffiate percussioni, la Filarmonica Sestresa ha intrapreso una nuova strada, abbandonando un po' quelle sinfonie lunghissime, anche un po' noiose, anche per il gusto del pubblico che era cambiato, e forse anche per quelli che suonavano. Infatti in quel periodo lì erano entrati molti giovani e anche le ragazze, che era un avvenimento, perché prima di allora nelle bande non se ne vedevano ragazzi o donne. Invece erano entrate anche queste. E quindi c'è stata questa serie di bellissime cose che sono avvenute, anche grazie per i maestri, per gli insegnanti, che si erano date molto, molto, molto da fare per entrare in questa nuova era musicale. E la Filarmonica Sestresa ha cominciato a raccogliere nuovi successi, nuovi trionfi, sia nei concorsi, sia nelle trasferte. È stata due volte in Vaticano, ha conosciuto due papi, poi anche addirittura al Quirinale. Noi abbiamo incontrato sia Pertini sia Scalfaro, invitati, perché era il centocinquantesimo. Erano tutti avvenimenti molto belli. Poi abbiamo avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti d'America, di incontrare persone come Vittorio Gasman e altre ancora. Quindi la Filarmonica Sestresa in quel momento lì era al massimo della sua gloria. E lì entro un po' in campo anch'io, perché avendo un figlio, Stefano, avevo pensato di fargli imparare uno strumento musicale. Lui aveva scelto il sassofono, avevo portato un banda. E per la prima volta in tutti questi anni io ero diventato un socio. Poi vicepresidente, poi sono stato anche presidente dei Pro Biviri. E poi, avendo anche la possibilità di scrivere, ero diventato il direttore di Musica in Piazza. Ma questo sembra un'autocelebrazione. Parliamo invece del vantaggio e della bellezza di questa banda, che è riuscita a diventare una grande orchestra di fiati e ha girato tutta l'Italia e ha girato praticamente tutto il mondo. E siamo arrivati a giorni a... Il prossimo anno sono 180 anni e io mi preparo a festeggiarli con un secondo libro. Il primo l'ho scritto una ventina di anni fa e adesso c'è questo nuovo che uscirà proprio a maggio del prossimo anno. Io direi di fermarci qui e perché vorrei che questi anni 2000, dei quali siamo ancora noi, stiamo vivendo dei momenti molto belli, venissero raccontati anche da qualche di un altro. Per esempio, la nostra Chiara. Ti va di raccontare tutta la tua esperienza sulla filarmonica sestrese, visto che sei a Sestri? Grazie mille Mario per queste bellissime informazioni. Sicuramente Chiara continuerà con la storia più recente, ma appena arriva, si è persa per strada oggi. Vediamo un po'. Ah, eccola lì, eccola lì che arriva. Tanto tempo escutciamo este amor. Ciao Sergio, buonasera. Ma eccola Chiara, buonasera a te. Ma tu canti e ci lasci qua da soli preoccupati tutti quanti. Perdonatemi, ho trovato traffico. Eh vabbè, dai, ti perveniamo per questa volta e hai visto che bella location di nuovo. Meraviglioso, ringraziamo i titolari del bar che ci hanno ospitati con affetto. E sai qual è l'argomento di questa settimana? La filarmonica sestrese. Perfetto, e infatti il buon Mario Carboni ti ha passato la staffetta per continuare la storia dal punto in cui l'ha lasciata lui, intorno agli anni 2000. Quindi l'anno del giubileo. Esattamente. Quindi io direi a questo punto, Chiara, avanti tutta. Grazie Sergio. Intanto salutiamo i nostri amici che ci seguono numerosi e con tanto, tanto affetto. Devo dire che la filarmonica sestrese nell'anno del giubileo si è scatenata, ha fatto un mare di eventi, soprattutto collaborando con numerosi teatri. In particolare con il Teatro della Tosse qui a Genova e numerosi teatri anche torinesi. Diciamo, è andata avanti in quell'anno a festeggiare il compleanno del 155esimo anno di fondazione in presenza dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi. Sono seguite numerose collaborazioni con altre tanti teatri, tra cui il Teatro della Tosse. Ha ricevuto anche il premio Lanterna per avere favorito e agevolato l'inserimento dei giovani in ambito musicale. Ricordiamo anche tra il 2005 e il 2006 numerose collaborazioni con tante associazioni del territorio, tra cui Gigi Ghirotti, Unicef e poi l'aver partecipato al memoriale in onore di Lele Luzzati. Da ultimo, di recente, il festival bandieristico intitolato Città di Genova, quando in contemporanea sono arrivate le numerose toll ships, cioè le navi, i veglieri che tanto hanno impreziosito la nostra città. Beh, sei stata chiarissima e non a caso ti chiami Chiara. Sergio, a tuo avviso, i Sestresi conoscono l'origine e hanno qualche informazione della loro banda, la banda Sestrese? E chi lo sa? Però guarda, tant'è anche questa volta mi fa venire la voglia di andargielo a chiedere. Dai, faccio una cosa veloce e torno. Non ti preoccupare, non mi perdo. Ne sono certa. Arrivo subito. A dopo. Tu conosci la filarmonica Sestrese? Sì, sì, sì. C'ho più lo Sestri. E qual è lo strumento che preferisci? Io preferisco la chitarra. Mi sembra che loro non so se ce l'hanno la chitarra. Ma anche la filarmonica, il pianoforte, quelle cose lì. Grazie mille. Sì, figlio. E tu conosci la filarmonica Sestrese? Sì, sì. Famosa, sì, sì, sì. Hai mai suonato uno strumento? No, no. Niente, niente? Non so niente, niente. La filarmonica da piccolo che me l'avevano regalata come un giocattolo. Ebbè, uno strumento anche quello. Eh, vabbè, ma ne parliamo di 70 anni fa, eh. La musica non ha età. Grazie mille. Figura, ti ci mancherrebbe. E tu conosci la filarmonica Sestrese? Sì. E ad esempio vediamo gli ottoni. Che cosa sono gli ottoni? Vediamo se sai anche questa. Sono le trombe, quel genere lì. Tutta roba è un ottone. Perfetto, risposta esatta. Preparatissimo. Grazie. Prego. Sì, la conosco, però non so cosa dirle. Ma ad esempio hai mai suonato uno strumento? No. Nulla, nulla, zero? Nulla, nulla. Ma neanche il citofono è suonato? Sì, quello sì. Va bene, grazie. Allora sul citofono siamo a posto. E tu conosci la filarmonica Sestrese? Eh, la conosco e non la conosco. E nel dubbio, vediamo se sai che cosa sono i legni in una banda. Allora, i legni mi si è detto al tempo che sono tutti gli strumenti che hanno la facoltà di suonare sul legno tramite... Flauti, cose di questo tipo. Tramite no, no, flauti tu volete, no? Vabbè, comunque resteremo con questo dubbio. Il legno che è il tuo caso. Grazie mille. Eh, prego. E voi, conoscete la filarmonica Sestrese? Sì, sì. E io no. Ah, tu no. Però magari ti piace di più uno strumento che un altro? Sì, sì, sì. Mi piace la violina, mi piace tanto. Ah, ottimo. Lo sento ogni tanto su internet o qualcosa, però mi piace, è bella. Benissimo. E tu suoni qualche strumento? Ho suonato la chitarra da piccola e mi piace tuttora, anche se non la suono più, però mi piace. Bene, quindi a questo giro tutti i strumenti a corda. Grazie mille. Grazie, grazie. E tu conosci la filarmonica Sestrese? Sì, la conosco. Beh, sono nata a Sestre, quindi la conosco, la conosco. E hai mai suonato qualche strumento? Eh, ai tempi che furono, ormai lontani, alla Dante Alighieri, ci facevano suonare il flauto. Ah, bene, bene. Quindi noi come scolaresca, come base, c'era questo strumento, che vabbè, poi chiaramente... Quindi la scolaresca che suonava tutte insieme, chissà che cagnara, e salutiamo anche il cagnolino. Sì, ci facevano fare anche varie cose qua, dal teatrino che c'era una volta qua, ma le parlo degli anni 60. Grazie mille, gentilissima. Ok, grazie, grazie mille. No, 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 non conosco. Ma hai mai suonato uno strumento? No, neanche quello, devo dire no. Ah, quindi abbiamo un altro che suona il citofono. Quello l'avrai mai suonato? Quello sì. Ah, bene, bene, bene. Grazie mille. A te. Ciao, ciao. E tu conosci la filarmonica Sestrese? Sì. E dimmi, saresti felice se il tuo vicino suonasse un bello rullante? Non lo so. Beh, vediamo di non provare, eh. Grazie. Prego. Bentornato, Sergio. Grazie mille. Allora, come sono andate le interviste? Guarda, i Sestresi si difendono sempre. Lo immagino. Non sono tutti preparatissimi, però è anche un argomento un po' particolare, ma per lo più hanno saputo rispondere alle mie domande, quindi promossi tutti quanti. Sono contenta. Ma senti un po' chiara però, cerchiamo di non spezzare le belle tradizioni. Cosa ne dici se non facciamo vedere la nostra bella edicola settimanale? Immancabile l'appuntamento con l'edicola di oggi, venerdì 4 ottobre. Vai! Oh, ma Federica, grazie. Grazie a voi. Un caffè a quest'ora ci vuole proprio, è chiaro, cosa dici? Decisamente, lo stavamo aspettando. Sì, 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 grazie. Molto, molto gentile. Ci mancherebbe. Grazie. Cogliamo l'occasione per salutare tutto lo staff del bar MC in via Sestri, in particolare il loro capitano, il nostro capitano, il signor Jack che ci ha ospitato e ha voluto caldamente il nostro arrivo all'interno della struttura. E noi eccoci qua, abbiamo subito approfittato dell'ospitalità di Jack. Ma è il momento di dedicare qualche istante alla rubrica dedicata al meteo, giusto per mantenere la promessa rispetto ai Sestresi. Come ho detto delle pillole, andiamo avanti con le pillole del meteo. Quindi Chiara, che cosa prevedi per sabato? Sabato 5 ottobre. Farà freddino, le temperature oscilleranno tra i 13 e i 21 gradi e sarà parzialmente nuvoloso, quindi potremo fare qualche gita, ma sicuramente molto, molto coperti. E invece Sergio, che cosa prevedi per domenica? Allora, guarda, per domenica purtroppo, ahimè, cari Sestresi, dovrete portare l'ombrello con voi, perché sebbene le temperature siano abbastanza simili, sabato saremo fra i 19 e i 22 gradi circa, ahimè, pioverà. E purtroppo questo sarà motivo di tristezza forse per alcuni. Ma ricordo anche qualche nostro spettatore che aspettava la pioggia per riposarsi finalmente a casa. Ne ricordo in particolare una. Esatto. Questo potrebbe essere il weekend giusto. Quindi per domenica pioggia, mi dispiace. Sergio, sono sicura che i nostri amici Sestresi abbiano il desiderio di conoscere la tendenza meteo settimanale. Proviamo a soddisfare la loro curiosità, sempre però tenendo presente che è una prova di previsione, perché ogni giorno le previsioni cambiano. Però diciamo che io consiglio ai Sestresi di mettere da parte un bel libro da tenere sul tavolino del salotto, perché questa settimana ci sarà sì qualche giornata di sole, ma ahimè anche tanta pioggia, quindi bisognerà trovare il modo di occupare le nostre giornate in qualche modo, in qualche maniera. E a proposito di occupare le giornate, tu sei entrata canticchiando, ma cosa fai oggi? Pensi mica di non cantare una delle tue canzoni del repertorio? Mi raccomando. Se me lo chiedi così. Ma sì, dai. Allora facciamo fare una cantata alla nostra Magnifica Chiara e poi rientriamo in studio. A tra poco. Ho aspettato tanto questo momento, la tua mano stretta forte alla mia, il tuo sguardo me lo sento vicino, così bello non l'ho visto mai. Dalla bocca chiedo solo un sorriso e non stai così felice mi fai. La tristezza va via, via la malinconia, stasera non ti lascio andar via, sopra le nuvole, io sono e non stai così felice mi fai. Io amo solo te, io amo solo te, io amo solo te. Ecco la Chiara, allora com'è andata? Bene, bene, mi sono molto divertita. Ma la tua voce è spettacolare, quindi sono convinto che lo spettacolo sia garantito. Beh, lo vedremo in questa puntata. Grazie. Ma abbiamo parlato della Filarmonica Sestrese, abbiamo parlato un po' anche del meteo, tu hai fatto una bellissima cantata, un'esibizione, non ci resta altro che salutare gli amici sestresi, ma prima abbiamo due cose da raccontare ancora, velocissime, vero Chiara? Sì, l'invito di guardare sul gruppo il video girato dal nostro mitico Bruno Cherin inerente ai festeggiamenti della Polizia il 30 settembre scorso, è davvero bello. E io invece vi ricordo che domenica prossima, meteo permettendo, ci sarà niente po' di meno che un treno storico, anni 70, che da Genova a Brignole viaggerà verso Rossiglione e Ovada con ritorno in serata. Beh, un'occasione particolare per tornare indietro negli anni e vedere quindi un treno anni 70 passare per Panigaro, per Costa di Sestriponente. Per chi è interessato, il treno va a Rossiglione per la Sagra della Castagna. Proseguirà su Ovada e ritorno solo per scopi tecnici. Comunque è una bella occasione, non dimenticatevela. Beh, allora cari amici sestresi del gruppo Sestriponente dintorni, anche la seconda puntata di Al di là del meteo è finita, quindi non ci resta che ringraziarvi dalla vostra fedeltà, dei vostri commenti, dei vostri apprezzamenti e darvi appuntamento ovviamente alla prossima settimana. Vero Chiara? Sì, arriva poco, una settimana fa presto a passare. Vola, vola, e noi siamo sempre qua a preparare i testi, a preparare argomenti, cerchiamo di avere tante idee, ma se voi ne avete, dateci qualche suggerimento, siamo aperti a qualunque tipo di idee e argomenti. Non mancate di darci i vostri preziosi consigli, ma adesso Sergio è il momento di salutare. Certamente, e a modo nostro. Ciao Sestri! Chiara, sì, guarda, appena arriva continuerà sicuramente questa bella storia, questa quando arriverà. Ciao Sergio, buonasera! Buongiorno, dovevi in realtà aspettare che lui arrivasse, così... Ah, ragazze, abbiate pazienza. Eh sì, ma sono io che mi perdo le cose da quest'ora in avanti. Però insomma, ogni volta fa piacere sentirla. Troppo gentile. No, 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 no. Al di là del meteo, è stato presentato da Bruno Cherin, Sestri Ponente d'Intorno. Grazie. 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 Grazie.